carlo rovelli la la catastrofe ecologica il concertone del primo maggio a in piazza san giovanni a roma che bello tutti felici e contenti tutti felici e contenti al concertone del primo maggio presso la basilica di san giovanni laterano a roma tutti felici e contenti se nonché il fisico di fama internazionale e carlo rovelli è andato a fare il suo discorso il suo discorso cari amici un ottimo discorso un ottimo discorso carlo rovelli rappresenta oggi ciò che nel 1950 nel 1960 nel 1970 rappresentava il grande logico matematico e fisico britannico bertrand russell ma vediamo vediamo che cosa ha detto carlo rovelli carlo rovelli grande fisico internazionale carlo rovelli concertone è il titolo di un articolo è che leggo sulla website fan page concertone l'unica polemica viene da carlo rovelli carlo rovelli parla della guerra in ucraina parla delle armi parla della catastrofe ecologica e nomina anche e il ministro della difesa guido crosetto guido crosetto perché guido crosetto sarebbe molto 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 vicino agli ambienti delle armi delle armi e quando ci sono le armi ci vogliono le guerre perché non è che puoi costruire le armi e e metterle nei depositi no le armi vanno consumate quando consumate beh allora allora il fisico carlo rovelli ha letto un testo ai giovani presenti in piazza san giovanni per il primo maggio c'è una c'è una catastrofe ecologica che sta arrivando e rischia di rovinare il vostro futuro cari giovani ma nessuno prende le decisioni per fermarla perché a qualcuno da fastidio da fastidio fermare fermare la catastrofe ecologica ci sono diseguaglianze che crescono ma voglio dirvi che stiamo andando verso una guerra che cresce e invece di cercare soluzioni i paesi si sfidano soffiano sul fuoco della guerra e la tensione internazionale e non è mai stata alta come adesso bene e poi qua ci sono le parole il ministro in italia il ministro della difesa è stato vicinissimo a una delle più grandi fabbriche di armi nel mondo presidente della federazione dei costruttori di armi il ministero della difesa deve servire per difenderci dalla guerra non per fare i piazzisti di strumenti di morte beh qua io mi fermo tanto questa notizia e ve la metto con il link riassunto di questo video caro fisico carlo rovelli tutto quello che tu hai detto è giusto tutto 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 sì ma aveva già cominciato a dire queste cose anche la la brava fanciulla greta thunberg e tutti a dire che greta thunberg è al servizio delle lobby internazionali il capovolgimento certo ci dà fastidio ci dà fastidio sentirci dire che che c'è la catastrofe ecologica c'è la catarsi ci siamo di fronte alla catastrofe ecologica perché fermarla questa catastrofe ecologica vuol dire ridurre i nostri i nostri i nostri bisogni i nostri bisogni io ho sentito un telegiornale un telegiornale ieri primo maggio festa festa del lavoro e un signore un padre di famiglia che si lamentava perché la sua paga la sua paga la sua paga non era sufficiente a garantire ai suoi ragazzi suoi figlioli di frequentare corsi di nuoto in piscina in piscina capito ogni un padre si sente avvilito se non aveva i soldi per mandare in piscina i propri figli una volta un padre si sentiva avvilito se non aveva i soldi per mandarli a scuola i propri figli oggi no oggi i figli devono andare in piscina o magari devono andare a sciare in montagna o prendere l'aereo andare a fare una vacanza breve alle 6 il mondo va in questa direzione 8 miliardi di abitanti e tutti e tutti 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 questi 8 miliardi di abitanti dove più e dove meno sono dei tremendi siamo siamo tutti siamo tutti dei dei tremendi inquinatori dove più e dove meno è dove più dove meno ma facciamo l'esempio nelle grandi città non basta più avere l'automobile ci vuole il suv il suv non ti senti non ti senti a posto nel confronto degli altri se non hai un suv pensare che i suv erano sorti per andare a fare la caccia grossa nella savana no adesso devono essere tutti in città e carlo rovelli carlo rovelli e dove va l'umanità dove va l'umanità ma l'umanità è una specie infelice è una specie molto infelice e l'infelicità rende l'umanità la rende disperata e la disperazione porta a a questa questa corsa verso l'auto annullamento non non si può tornare indietro non si torna indietro caro fisico carlo rovelli tu fai bene a dire queste cose ma non si può essere ascoltati da questi da questo otto miliardi di abitanti tutti terribili inquinatori tutti siamo tutti terribili inquinatori e beh io qua mi fermo devo ricordare greta thunberg che ha cominciato il suo discorso contro il riscaldamento globale che in pratica è un discorso contro l'inquinamento l'inquinamento ricordo che è stata definita al servizio delle lobby chi sa mai è tutto il contrario è tutto il contrario perché 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 ridurre l'inquinamento del pianeta non è a vantaggio delle lobby è a svantaggio delle lobby però si dice che greta thunberg è al servizio delle lobby la chiamano la la gretina gretina capito e l'umanità l'umanità si condanna inconsciamente l'umanità corre verso il baratro verso il baratro e sparirà l'umanità sparirà l'umanità l'umanità sta sta distruggendo il proprio habitat non sta distruggendo il pianeta perché ci vorrebbe in altro per distruggere il pianeta però l'umanità sta distruggendo il proprio il proprio habitat per cui distruggendo il proprio habitat l'umanità distrugge se stesso se stessa e vuol dire che questa specie disperata che l'umanità e finirà 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 di soffrire finirà di soffrire distruggendo l'abita distruggerà se stessa l'umanità e finirà di soffrire e questo è il mio discorso caro carlo rovelli non c'è niente da fare non si torna indietro e l'umanità l'umanità tanto disperata e si è condannata da sé ok carlo rovelli a te e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni